... ... ok, come potete vedere oggi è il giorno pizzetto se mi so tagliato la barba ho detto beh, mi lascio il pizzetto ... ... La forza del pezzetto Non è quella dei baffi Ma è comunque una forza Di peluria inestimabile Ma a parte le cazzate Oggi ho meno tempo per fare video Anzi in realtà ho meno tempo proprio in generale Quindi posso fare solo il video di domenica oggi Dannazione Quindi devo anche sbrigarvi Andiamo subito con le domande Perché sennò poi parte la roba Navid Rexon quali libri hai letto E qual è il tuo preferito Quelli che vedo sullo scaffale dietro i teli Ho tutti anche io Complimenti Allora quelli non sono tutti quelli che ho E non sono assolutamente tutti quelli che ho letto Ne ho letto troppi Dai Guardiani della Notte A Andrei Sapkowski Con tutta la storia di The Witcher Quanto meno quella tradotta in italiano Non voglio mettermi a leggere i libri in inglese E soprattutto non voglio mettermi a leggere i libri in polacco Perché sarebbe un po' Difficile Games of Thrones Ho letto un po' Le cronache del ghiaccio e del fuoco Non so per chi li conosce Quindi ho letto un po' tutto Poi ho Giro proprio Sono un letterato allucinante Io Smazza la roba col letto Con Andrei Tutto Ok smetto di autocensarmi E rispondo alla seconda domanda Quello che mi piaceva di più è Quello credo di La serie in generale di Sapkowski Quella di The Witcher Per un semplice motivo È scritta benissimo E Ha una storia bellissima Quindi Quella Sicuramente Non ricordo se stavi studiando per diventare master per D&D Ma comunque Farei mai sul tuo canale una partita di D&D con i tuoi iscritti o come master o come giocatore? Ah però Però ho scritto Ma sappi che Se non verrai mai ad una fiera di Milano Passerò al lato oscuro delle sedie No tranquillo Verrò prima o poi alla fiera di Milano Anzi Penso che verrò a una fiera di Milano Il mese di quaglio Nel giorno del Crediamoci È un po' complicato Venire a Milano Sorry E non ricordo Per una partita di D&D Mi piacerebbe Ma fare una partita di D&D Masterando una cosa come 16.000 persone Credo sia Leggermente Troppo 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 E non potrei ovviamente accontentare tutti Quindi Manteniamoci con le one shot Che facciamo con Dice Games Italia Markengex Domanda Rex Non so se ti ricordi Ma sul vecchio canale Io ti avevo fatto una domanda Sul primissimo Sembra Comunque la domanda era Rex Ti piacciono i comici Sessi i quali? Io adoro i comici Passerei la giornata a guardare i comici Ce ne sono vari Che mi piacciono Maurizio Battista Crozza Anche se è più Diciamo un comico satirico Rispetto a un comico Proprio comico Ce ne sono svariati Peppe Grillo Soprattutto ora come comico È Spettacolare Ok Fate finta di niente Se no poi Iniziamo a dire No Dobbiamo gacciare dalla rete E io dico No Tendenzione Why Ha deciso la rete Ma sono quattro gatti La rete ha deciso E probabilmente adesso Verrò sommerso Da Fan Svegatati Del 5 Stelle Tendenzione The Ginko HD Hai mai giocato a Prince of Persia E qual è il tuo preferito E quello che ti ha più deuso Allora sì Io ho adorato la saga di Prince of Persia E quello che mi è piaciuto di più È il secondo della Diciamo Trilogia Barra quadrilogia Se ci comprendiamo Le sabbie dimenticate Va Vabbè Diciamo trilogia Nella trilogia il secondo Che era Warriors Within Warrior Within Come diavolo pronuncio Insomma Il secondo Era Quello Migliore Totto il doppiaggio Con Gabriel Garcoman È un dettaglio È un dettaglio Il gioco era fegissimo Ok Quello che mi è più deuso Invece di Prince of Persia È Quello diciamo Standalone Prince of Persia Quello Più fumettoso Dal punto di quello Fatto col self-sharing Dove non morivi mai E c'avevi tipo Quella che ti salvava Il culo Tipo No Cado E quello Che capo Io E ti salvava All'ultimo secondo Una cosa Perché Dammi un game over Dio Santissimo E poi c'era Un nemico Solo A livello Che si ripeteva Però insieme Il platform Non era male Non era male Il platform Ehi Domanda Giocherai mai A Splinter Cell Totalmente Stealth Sei un mito Sì Preciso Ce se prova Perché ce se prova A fasteggio Quanto meno ce provo Non ce riesco Lo so Ma ce proveremo Sia lì Che con La serie completa Di Hitman Perché c'è tutta la serie Di Hitman Come tutta la serie Di Splinter Cell Tranne Pandora Tomorrow Che non so il motivo Su Steam Non esiste Non c'è Pandora Tomorrow Why Ma vabbè Viking Noise Domanda Rex Perché hai paura Delle sedie Io le adoro Ban Ok Ti salvo Per questa volta Ma solo perché Sono buono Dentro E io credo Che tu sia stato Preso E coercizzato Un po' come i fan Del cinque Devo stare zitto Perché se non Mi uccideranno Mi verranno A infilare Un chip Dentro Con Quel Barboncino Troppo Cresciuto Perché Continuo a parlare Su YouTube Dove Cazzo E non è chiaso Voi non avete sentito Niente E sto rispondendo Per le sedie Quindi Per la paura Delle sedie E ti faccio Una semplice domanda Hai mai sbattuto Su una sedia Un mignolo Un ginocchio La testa Magari ti si è Inchinato Per accogliere qualcosa E hai sbattuto Tu hai pensato Che è colpa tua Ma non è così È lei che si è spostata Pensaci Perché se non lo fai Prima o poi Rimarrai inculato A sangue È brutto Cioè tu ti alzi La notte E stai così Fai Oh mio dio Il sedere Poi ti giri Cioè Quella sedia Che si sta fumando Una sigaretta E fa Ehi baby E tu No E più o meno Finisce così Diego Ischerio Domanda Per me è una serie Su Final Fantasy E o Diablo Le mie due serie Videoludiche preferite Bella Rex Grazie per tutto Quello che fai Cuoricino Per Diablo Credo di sì I don't know Ma Credo di sì Per Final Fantasy Ho un po' di dubbi Sul fatto Sul Se sul fatto Io so So fatto io Non ho fatto Dannazione Perché Dicevo Ho qualche dubbio Sul farlo Perché I GDR Giapponesi A turni Non è che Li adori La storia mi piace Poi dipende Ovviamente Da Final Fantasy O Final Fantasy Se mi chiedete Quale preferisco Vi dico Il 7 Rispetto all'8 E vario Scroba di questo genere Ma non lo so Perché I GDR Giappo A turni Proprio Il sistema di combattimento A turno Mi ha sempre Lasciato un po' così Ho sempre preferito Una cosa un po' più Action Rispetto a quella A turni Ma Vediamo Non si sa mai Torto ovviamente Che durano Uno sproposito Di ore I GDR Di Final Fantasy Quindi Vediamo proprio Linus Domanda Rex Ti sei mai rivisto Il tuo primissimo Video Sì E mi chiedo Ancora Come ha fatto Certa gente Iscrivese Con quel video Ma so Dettagli Case 94 Domanda Cosa ne pensa La signora La signorina Rex91 Del tuo lavoro Da youtuber Ti supporta Continua così Che sei Ermeio Ermeio Pezzo Del Colosseo Ricordiamo Sei titoli Perché poi Se no Io qui Me inciafruio Me Me incazzo Andiamo Per quanto riguarda La signorina Rex La signora Rex91 Sì Mi supporto Appieno Anche perché Porto i soldi Quindi Eeeh A parte Le minchiate Sì Comunque Sì È È una cosa Nuova Non lo fanno tutti Ma comunque Ho il supporto Più o meno Di tutti Quanti Quindi Sì Sì Perché porti I soldi Money Grabber Motherfucker Oh yeah Mamma mia Potevo entrarne In Bruce Brothers Fai cazzarola Hoop Due domande Rex Quali pensi Siano i fattori Che incidono Di più Su un gioco E seconda domanda Dato che lo hai nominato Che ne diresti Di proporci Il Legacy of Kane Ovviamente Anche qui Ho tutti I capitoli Della saga Su Steam Tranne Blood Home 1 Che era solo Su Playstation 1 Solo in inglese Ovviamente E quindi Che parla proprio Dell'inizio Di Kane Come è diventato Vampiro E cosa ha fatto Ma ovviamente Solo in Playstation 1 Solo in inglese Oddio Mentre Quali penso Siano i fattori Che incidono Di più sul gioco Credo siano Primo su tutti La trama Il sonoro Il lato artistico E questo E il gameplay Ovviamente Perché magari Ci metti trama Sonora Ma il gameplay È una merda Ok È un bel gioco Ma con un gameplay Di merda Cosa che Tra virgolette Reputo Tecnicamente The Walking Dead Come H The Wolf Among Us Ora Non iniziate a prendere I paletti Ripeto Sono ottimi Giochi Dal punto di vista Di trama Sonoro Artistico Ottimi giochi Dal punto di vista Del gameplay Fanno cagare Perché relativamente Non sono neanche Dei puzzle games Sono dei Cazzo Dato Scusa 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 Volevo colpirti Non volevo Volevo Non uccidermi Di breve Di che Dio lo sa Oh Giusto The Walking Dead Dal punto di vista Diciamo Da puzzle games Fanno abbastanza schifo Perché comunque Puoi sempre sapere Dove devi cliccare Cosa devi fare Dè un semplice click E vai avanti Ottima storia Ottimo sonoro Ottimo lato artistico Ma il gameplay È abbastanza carente Tocca dirlo È un difetto Dei giochi Della Telltale Ma Diciamo che Recuperano con tutto il resto Quindi Eh Quindi Io ho effettivamente detto Tutto questo Aggiungendoci anche il gameplay E poi dopo Ho detto che il gameplay È inutile Se le altre tre Sono ottime Morale Non so manco io Che c'ha De buono Non ve fidate De me Non ve fidate De quello Che vi dico Perché Ultima domanda Mi dispiace Purtroppo Come ho detto Oggi Ho veramente Pochissimo tempo Per poter registrare Questo è l'unico video Che posso fare Quindi Ho esarito Il mio tempo Con questo video Mi dispiace Se è durato Un po' meno Degli altri Recupereremo Con domenica prossima Purtroppo Ultima domanda Artur Kaja Rexon Hai detto che farai Dragon Age 1 2 Inquisition Ma Li farai Ma li farai Senza la G Li farai Creando la tua timeline Oppure li farai Senza la G Li farai Con storie diverse Allora Se tu intendi Che importerò I salvataggi Sì Ovviamente farò Il primo Dragon Age Dopodichè nel 2 Importerò I salvataggi Del primo E nel 3 Immagino si possa fare Se è della Bioware Importerò I salvataggi Sia del primo Che del secondo E in questo modo Continueremo La timeline Come dovrebbe essere E immagino Sia una figata Quindi Spero vi vada bene Questa decisione Anche perché Sarebbe un po' cretino Fare una con una timeline Il due con un'altra E spero E con un'altra ancora Perché? Quindi Termino con questo vlog Spero che questo vlog Vi sia piaciuto Speriamo Bene Perché sennò Ho speso 25 minuti Di inutilità E che Spicchi Beh comunque Guardiamo il lato positivo Sicuramente vi piacerà Perché sono un faigo Ma anche no Ma sono un faigo E quindi Vi piacerà E niente Quindi ci vedremo Al prossimo video Vlog Video in play Spero che il vostro X91 Ripeto Mi dispiace Se non ho potuto rispondere A ogni domanda Che mi avete fatto Ma Avevo poco tempo E siete veramente tantissimi Quindi Continuate a farmi altre domande E Piccolo consiglio tecnico Non mi state sempre a chiedere Se faccio una determinata serie Perché come ho detto Io tenterò di fare Ogni serie possibile Immaginabile Nel globo terraqueo Semplicemente Ho una piccola lista Dove farò Prima un gioco Poi un altro A seconda di quelli Che reputo meglio Detto questo Ci vediamo Poi un video Un play Sempre che lo vado su What's No man Uno Ciao a tutti Oh yeah I uh